Torna con un nuovo programma per Rai Sat Extra, Carlo Massarini. Mr. Fantasy fu negli anni Ottanta un periscopio puntato su tutto ciò che era trendy all'avanguardia, dalla musica pop all'immagine, alle arti, design e architettura in particolare. Un radar di modi, linguaggi, nuove frontiere culturali e tecnologiche. Mr. Fantasy si incarnava e ancora si incarna nello storico DJ e VJ della Rai, Carlo Massarini, inseparabile dall'altrettanto storico coautore Paolo Giaccio. La coppia è di nuovo in pista ed è tornata con altri affezionati compagni di viaggio sul luogo del delitto. Rimpatriata in quello studio convertino, fucina del visual design più avanzato, in cui ambientarono le puntate d'allora, prima un bilancio di come è cambiata la tv. Si è tutto un po' più polverizzato, bisogna un po' andare in cerca della cosa che ti piace, tutto più veloce, tutto un po' più piccolo, però è anche tutto un po' più a misura d'uomo. Quindi l'annuncio, dal 3 marzo ogni mercoledì alle 23.15 su Rai Sat Extra, sei nuove puntate di rivisitazione creativa di quegli anni, Mr. Fantasy Reload and Rewind, cioè ricarica e rivedi. Una riscoperta di quel periodo connessa al panorama attuale, con set al maxi di Roma e qualche contributo realizzato allo studio convertino. Credo che sarà piacevole riguardare con l'occhio di 30 anni dopo, 25-30 anni dopo, quindi con un occhio più smaliziato. Da martedì a sabato alle 18.45 su Rai Sat Extra, in onda il Mr. Fantasy originale.